Signore, c'è solo una cosa che gli uomini fanno che implica che non vi vogliano, che implica che lui sia schifato da te, dalla tua presenza, cioè tu sei proprio una donna inetta se lui ti guarda, insomma è schifo proprio, quando le sue parole non collimano con le azioni. Quindi se io vengo là ti faccio amore, amore vieni che ti porto a Disneyland domenica prossima, invece di portarti a Disneyland ti invito a casa mia, ti faccio un piatto di pasta, non so se ti faccio questa pasta qui, questa qui che ho qui, non so se vedete che ho cucinato io, l'altro buonissima, una ricetta buona, e invece di portarti a Disneyland io ti porto a casa e poi ti adesco, Cioè nel senso che ti faccio delle seduzioni, insomma hai capito dove vado a sparare, non ti vuole, non ti vuole. Quindi che vuol dire? Facciamo una cosa semplice, un uomo che non fa un match, quindi non c'è un matching, c'è un mismatch tra le parole e i fatti, è un uomo che chiaramente non è interessato. Va bene? Quindi, tutte le donne ci cascano. Io, non importa quante volte lo dico, non importa quante volte ripeto alle ragazze che vengono in colle con me, oh guarda che ti sta a prendere, no, voi finché non sbattete la testa non vi va bene. Poi c'è qualcuno che mi sta a sentire, meno male, meno male, che ottiene risultati, perché mi sta a sentire, quindi giustamente segui le linee guida. Nessuno vi viene a prendere per l'orecchio e vi viene a dire, guarda che te non devi fare questa cosa, guarda che te devi stare attento, no, 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 queste cose non esistono. Non c'è nessun uomo che, non c'è nessuna persona, scusate mi abbasso un attimo, vi faccio vedere un po', tipo gorilla, non c'è nessun ragazzo, nessun salvatore che ti viene a prendere e ti dice guarda che tu non devi fare questa cosa. Voi dovete essere coscienti, tu non sei cosciente, cioè se un uomo crea un mismatch tra quello che dice di voler fare e quello che fa, tu sei una povera illusa, ti devi svegliare, è imperativo, io sono qua per dirti di svegliare. Non puoi pensare di continuare con questa linea guida, continuare con questa linea guida, come non si sente? Qua stiamo facendo la live, mi dite se si sente o no per favore, che sto facendo anche il video su youtube, dai non mi fate incazzare. Questo qua deve alzare il volume, insomma, alza il volume. Se un uomo, per esempio, dice che vuole portarti a bere qualcosa, e poi non ti porta a bere qualcosa, ti porta al parcheggio e al cimitero come dice il buon Massimo D'Aramasco, tra l'altro seguite una bravissima persona, gli voglio un sacco bene. Voi non vedo dove possiate pensare ad andare, cioè non capisco dove possa essere la vostra direzione. Allora, gli dice, ma io che devo fare, ma come faccio? Io banno questo qua, posso bannarlo? Bannarlo, silenzio. Allora, quando un uomo non fa quelle che sono le cose che tu vuoi che faccia, ok? E che succede? Succede questo. O metti dei paletti. O tagli il rapporto. Molto semplice. Ora, mettere dei paletti non è come la pensi tu, che stai guardando questo video, che vuoi già fare la matta e vuoi esplodere. Ma io blocco, eh, io blocco, taglio, eh. Allora, io sono uscito con ragazze fuori di testa, ok? E sono i peggiori. C'era questa qua, mi ricordo, non me la scorderò mai. Non me la scorderò mai. Non me la scorderò mai. Sono uscito con questa ragazza. Praticamente questa ragazza c'era del buon potenziale, Fraddino, però è bipolare. Single da sette anni. Tra l'altro, se siete single da sette anni avete un problema, quindi è grave per una consulenza conoscitiva con me. Ho, insomma, mandato il link in descrizione, ci saranno i servizi. E c'era del potenziale. Questa ragazza non è che aveva dei paletti dove riusciva a anche andare oltre, no? E a dire, aspetta, perché questo ragazzo mi ci trovo bene. C'era del potenziale, c'era del potenziale. No, questa ha preso Esplosa e ha mandato tutto all'aria. Tu non devi fare la stessa cosa, non vuol dire questo. Non vuol dire sbroccare, perché lei sbroccava, no? Magari non tenia quello che voleva, sbroccava. Sbrocca, ma di tutta l'aria brucia le relazioni sentimentali. No, non è così. Non è questo lo stile. Non si brucia, ok? Non si brucia. No, si mette il paletto. Il paletto che vuol dire? Io mi ricordo, quando ero piccolo, c'era psicologa mia madre, si diceva, signora lei deve mettere i paletti, signora deve mettere i paletti. Ma che cazzo vuol dire? Vuol dire. Vuol dire il paletto, dire all'altra persona, quali sono le tue richieste. Io richiedo, voglio questo. Mi piacerebbe questo. Me lo puoi dare? Bene, non me lo puoi dare, vediamo un attimo che succede, sennò poi ti mando a quel paese. Ok? Perché ti sto dicendo questo? Perché sto insistendo su questa cosa? Perché mettere dei paletti ti consente di liberarti. Cioè, quando io so che mi va bene una certa cosa, io nel rapporto sentimentale non vado a sgarrare. Perché c'è un paletto. Perché c'è una cosa che deve essere rispettata. Se lui fa delle cose, e io ho i paletti dove voglio che lui rispetti queste cose che mi ha promesso che avrebbe fatto, e poi non le fa, eh, io c'ho i paletti. C'ho gli standards. E per me non va bene. Fuori. Fuori nell'immediato. Capito? Quindi cerca di concentrarti su questo, perché è molto importante sapere di dover mettere i paletti con un uomo piuttosto che invece lasciare che lui faccia come gli pare. Perché se tu il cane lo lasci fare come gli pare, il cane non ti rispetterà più. Ricordati sempre che il cane si prende la mano, se poi gli dà troppo la mano, si prende il braccio, se poi gli dà troppo il braccio si prende tutto il resto. La stessa cosa vale con gli esseri umani. Va bene? Iscriviti al canale, mi raccomando.